In tutti questi giorni in cui parliamo di indagini e di arresti, nel caso di Giovanni Totti, gli arresti domiciliari, parliamo da una parte della politica, dall'altra parte parliamo anche dell'imprenditoria. Quando io dico che cosa ci raccontano queste vicende, penso anche a questo, adesso anche lì, al netto di quello che diranno gli esiti del processo, che idea dobbiamo farci degli imprenditori italiani, del loro modo di stare in relazione con la politica e anche del giudizio che mentre rispetto alla politica da parte degli elettori è molto duro a fronte di alcune cose, sugli imprenditori mi sembra diversamente duro. Perché gli imprenditori vengono considerati da larga parte dell'opinione pubblica spesso invece che carnefici vittime. Invece sono insieme vittime carnefici. E qui però c'è un problema anche del legislatore. Che se non c'è un conflitto di interesse. Esattamente, questo è. E ha a che fare anche con la, so che sembra un po' acrobatica, ma con il mancato riconoscimento del valore del lavoro. Allora l'imprenditore invece che potrebbe contare su una capacità di produrre crescita di produttività, valorizzazione delle persone, investimento sul lavoro. A cominciare dalle retribuzioni. Ricordo che Biden non è un estremista, non è vero? Ma ricorderò sempre questa faccia così simpatica quando ha degli imprenditori che gli dicono, ma noi non troviamo più lavoratori. Lui mette la mano a megafono e dice pagateli di più. Non lo dice Lielin, glielo dice Biden. E appunto primo pagateli più. E poi si usa tanto in termini broglione, risorse umane. No, le risorse non sono quelle interne all'impresa, ma sono spesso, per molti imprenditori, il rapporto con il pubblico e con la spesa pubblica e con le opere pubbliche. E tanto più le opere pubbliche sono impegnative e sono decisi autoritativamente, tanto e i meccanismi di selezione sono quelli che conosciamo. Adesso se pensiamo al PNRR. Lei provi a pensare anche soltanto a questa possibilità di competere per ribasso dei costi, ma non è indicativo di un imprenditorialità che compete in realtà sullo scambio con i detentori delle decisioni sulle opere, sui bassi salari, ripeto, non sto dicendo che tutti gli imprenditori, ma il sistema va in questa direzione, cioè il sistema che va aggredito perché va in questa direzione, spinge anche imprenditori che avrebbero un'altra vocazione a muoversi in quella direzione.